Siamo le mamme in piazza e abbiamo sentito in noi forte il desiderio e la volontà di partecipare a questo presidio, organizzare questo presidio che si terrà per quattro giovedì qui davanti al carcere delle Vallette, i quattro giovedì di ottobre, in solidarietà condana, che è stata condannata a due anni, alla quale sono state negate le misure alternative al carcere e questo perché non ha manifestato in questi ultimi tempi, diciamo, il pentimento di avere partecipato alla lotta e alla vita not out. Lo riteniamo un'iniziativa, chiamiamola così, da parte della magistratura decisamente preoccupante. Avevamo già avuto in precedenza dei segnali con Eddie, con Nicoletta, con tanti giovani antifascisti che sono stati denunciati per aver ostacolato un drappello di ragazzi del FUAN. Una deriva preoccupante che ci porta a far tacere il dissenso, un dissenso che è il sale della democrazia che è giusto mantenere viva. La manifestazione alla quale Dana ha partecipato e per la quale ha subito la condanna a due anni era pacifica, non ci sono state nessuna forma e espressione di violenza tali da giustificare due anni di condanna su una persona incensurata. La misura alternative negata è ancora più preoccupante, perché non avendo avuto nessun ravvedimento non gli è stata data la possibilità di scontare la pena in una forma meno impattante che la vita carceraria. Partecipare a questo presidio, organizzare questo presidio, per noi è stato non solo un desiderio in quanto mamme notave, in quanto mamme di giovani impegnati socialmente, ma proprio un impegno civile che dovremmo avere come cittadini per non trovarci a vedere limitate le nostre attività democratiche di dissenso. Grazie a tutti.